E' calato il sipario sul Jova Beach Party a Vasto, un evento che in due giorni ha portato in città più di 40.000 persone. Prima delle due date, l'opinione pubblica vastese era divisa tra favorevoli e contrari. Erano in molti ad avere riserve sulla data scelta il 19-20 agosto, ovvero in piena stagione estiva, e sulla location. Ma a margine del mega concerto è evidente che si può affermare che anche i più scettici si sono dovuti ricredere perché tutto è filato alla perfezione, con la manifestazione che è stata chiaramente un successo, come ha confermato anche un soddisfatto primo cittadino di Vasto. Un evento strepitoso che rimarrà nella storia della nostra città, nel DNA della nostra città. Un'area recuperata, rigenerata, rinata per eventi, per spettacolo, per cultura, per il futuro. Un sopralluogo sulle dune, sull'ambiente, che ha testimoniato che l'ambiente, il sito, i luoghi stanno meglio di prima e sono intatti, quindi nulla è successo e nulla è accaduto. Impatto economico sulla città strepitoso per gli alberghi, per i bed and breakfast, per le affittacamere, per i ristoranti, per tutti. E in ultimo una costa dei Trabocchi, una Vasto, ente capofila della costa dei Trabocchi, che qualche giorno fa, grazie a Giovanotti, sta su Repubblica e sulle testate internazionali. È ovvio che i grandi eventi possono creare dei piccoli disagi, ma oggi possiamo dire che Vasto ha vinto la sua scommessa. Il Giova Beach Party è un evento unico nel suo genere e che ha permesso per due giorni alla città di essere sotto la luce della ribalta nazionale.